Buone notizie per le scuole materne di Licata, infatti anche per il prossimo anno scolastico sarà assicurato il servizio di rifezione scolastica? Sì, l'amministrazione comunale ha voluto garantire questo servizio anche per quest'anno, principalmente perché purtroppo in questo periodo ci sono dei problemi nel comporre l'organico per il prossimo anno scolastico e quindi ci viene sollecitato da parte dell'ufficio scolastico provinciale la dichiarazione di garanzia per la rifezione scolastica anche per il prossimo anno. Questa amministrazione ha cercato in tutti i modi di poterla garantire e oggi c'è stato un incontro con i dirigenti scolastici e con il personale docente e per cui abbiamo fatto questa comunicazione ufficiale e anche per il prossimo anno avremo la rifezione scolastica. Naturalmente con soddisfazione degli stessi dirigenti scolastici? Sì, penso insomma che tutti siano rimasti abbastanza soddisfatti, sia docenti che dirigenti, perché naturalmente con le difficoltà del nostro periodo è chiaro che non è semplice andare a garantire un servizio del genere. Quanti alunni saranno interessati tra virgolette da questo servizio? È possibile fare una stima attualmente? Noi abbiamo la stima di quest'anno scolastico passato e sono circa 500 e credo che insomma all'incirca la stessa cifra verrà garantita anche per il prossimo anno. Grazie. Grazie.